Ciao ragazze bentornate, questo è un video haul di prodotti di profumeria tradizionale parto subito raccontandovi quella che per me è stata una novità che non sapevo assolutamente ovvero che Collistar, sono andata alla Saracco e ho visto che Collistar ha fatto una linea che si chiama Collistar Natura di cui non sono usciti tanti prodotti, mi pare 4 e di cui ne ho voluto prendere uno in full size da provare proprio perché mi è venuta una curiosità perché secondo me è una genialata mettersi a fare prodotti con ingredienti diversi da quelli tradizionali, quindi penso e spero che riscuota un buon successo, comunque il prodotto che io ho deciso di prendere è l'acqua micellare bifase viso, occhi e labbra, questa qua, allora vabbè questa è la scatola e questa è la micellare, allora io l'ho usata soltanto due volte perché ero troppo curiosa e non volevo aspettare, quello che mi ha colpito di questa micellare bifasica, intanto sono 150 ml, non ricordo il costo ma in giro lo trovate, considerate che poi ogni profumeria vi fa degli sconti, ah tra l'altro questa linea qui la trovate anche sull'e-commerce di Saracco che si chiama vogliotuoprofumo.com, quindi se interessate andate a farvi un giro sul loro e-commerce, dicevo che quello che mi ha colpito di questa micellare bifasica è il fatto che non mi unge il viso, che è una cosa stranissima, cioè qualsiasi prodotto bifasico, un minimo, chi più chi meno ovviamente, non tutti nello stesso modo, con lo stesso effetto, un minimo lo lasciano il viso, una traccia dell'olio invece zero, infatti ho detto bene, mi piace, mi piace, sì, lo ritengo questo un aspetto positivo e mi hanno lasciato anche i sample di altri due, ah beh questa è la linea completa, eccola qua, quindi sono 4 prodotti, con questo prodotto qua che nello specifico è la crema essenziale trasformista, questo è il sample e questa è la sua caratteristica, mischiandola con diversi altri prodotti alimentari si ottengono diversi utilizzi, questa la trovo una cosa molto molto carina, l'ho provata sulla mano, lascia una bellissima sensazione di idratazione ed è carina l'idea di questo trattamento personalizzato viso fai da te, qui c'è scritto che gli ingredienti sono al 95% di origine naturale e insomma vedremo ne parleremo, l'altro prodotto che proverò è quello che vi stavo facendo vedere prima la crema infuso prodigiosa che rivitalizza la pelle insomma ripristinandone anche l'equilibrio ed è questa qua, tra l'altro un'altra cosa che vi segnalo è che questa crema se non ricordo male costa poco più di 30 euro che per una crema viso da 50 ml anche con buoni ingredienti non mi sembra un costo eccessivo anche perché sono prodotti che si consumano nei mesi, una crema occhio non si finisce in una settimana, poi vi segnalo la novità da Saracco ovvero la presenza dello stand make up di Laila, hanno deciso di prendere un nuovo brand di make up e hanno preso il make up di Laila, io purtroppo quel giorno andavo di fretta, mi sono soffermata su Collis non avevo più tempo per provare il make up di Laila ma vi comunico che, adesso vi dico anche perché vi sto dicendo questa cosa, con l'acquisto di tre prodotti vi regalano un rossetto uno di questi rossetti che sono i rossetti della promo, della promo appunto dell'omaggio questo è il packaging, secondo me è anche carino, ve li faccio vedere subito, i numeri sono 010203 ve li faccio vedere in ordine, questo è lo 01, non vi faccio gli swatch perché vedo che c'è una luce cattiva e vedo tutto giallo, comunque questo è il numero 1, il 2 un rosso un po' aranciato e il 3 che è quello che mi ha colpita di più è questo marrone che ha anche del malva dentro che può ricordare secondo me Hot Chocolate di MAC, non li ho confrontati sinceramente, ripeto non mi metto a farlo adesso perché la luce non è favorevole, però questo è quello che ho usato di più dei tre, ho usato anche il numero 1, è quello che ho usato di più dei tre e devo dire mi piace non secca le labbra, ho una durata media, nel senso che io ci arrivo tranquillamente fino a pranzo senza nessun problema e cosa fondamentale per me importantissima non va in giro, non straborda, straborda italiano, vieni a me perché sei sempre lontano comunque da sacco trovate anche il make up di Laila e quindi ragazze fatevelo un giretto se siete dei paraggi mi hanno regalato il, si dice il sample, come si dice il, questo, il tester, scusate sono un po' fusa il tester di uno dei blush della nuova collezione di Dior, questo arancio pescato con effetto degrade perché la nuova collezione di Dior è caratterizzata appunto da questo effetto degrade non so quale sia dei due perché dietro il numero, ah no c'è scritto davanti lo 002 cercavo il numero dietro invece non c'era e ragazze è veramente carino, l'ho usato ancora poco però è molto molto carino il colore, sono stati carini a regalarmelo e vabbè loro sono sempre carini con me un'altra cosa che mi hanno regalato in campione e che mi sta piacendo tantissimo ed è anche quello che ho sugli occhi oggi spero che possiate vederlo, questo mascara è il nuovo mascara The Shock di Yves Saint Laurent è una cosa fantastica, allora premetto di essere sempre stata una fan del mascara Shock di Yves Saint Laurent il precedente Shock e questo qui non si smentisce, lo scovolino è fatto in questo modo quindi con le setole e il materiale classico, mi piace tanto, veramente tanto, mi piace l'effetto sulle ciglia bello, veramente molto bello, bello bellissimo perché le infoltisce, è fantastico allora a loro è arrivato soltanto nero e blu e non si sa perché, era previsto il marrone ma il marrone non è arrivato che peraltro era anche l'unico colore che mi interessava, comunque non importa visto che l'ho comprato da Saracco, visto che sto continuando a usarlo, ve l'avevo fatto vedere mi sembra in un video haul e poi purtroppo è da tanto che non faccio video vi volevo dire che mi sto trovando bene con questo cushion di Dior, il Dior Skin Forever nella colorazione 020 che è la mia e come potete vedere non mi fa nessuno stacco con il collo mi piace molto, apprezzo anche il fatto che una volta terminato, qui c'è la spugnetta l'ho appena usata, quindi sporca, apprezzo il fatto che una volta terminato si possano comprare le ricariche io l'ho messo oggi, non ho messo cipria e quindi vedete fondamentalmente l'effetto del fondotinta così com'è mi piace, mi piace molto, mi piace anche il fatto che non rilasci con questo meccanismo cushion non si rischia mai di avere troppo prodotto di mettere troppo prodotto sul viso, di doverlo buttare se avanza o di doverlo comunque asciugare e tamponare in qualche modo perché si è esagerato con la dose mi accingo a presto a girare un altro piccolo video haul non ve lo metto insieme a questo perché altrimenti faccio video sempre troppo lunghi e ci vediamo al prossimo video haul che sarà di Kiko strano, non compro mai da Kiko io per il momento vi saluto vi ricordo di andare a spulciare il sito vogliotuprofumo.com che è l'e-commerce di Saracco Profumi anche loro sono miei amici quindi è ovvio che a me faccia piacere parlarvi di loro va così grazie per aver guardato anche questo video e ci vediamo al prossimo ciao